Inputato, alzatevi. Non posso. E perché non potete? Sono già in piedi. Ed egli, in quella tragica notte del delitto, la cercano per tutto. Nei locali, nei cabarelli, nei locali malfamati. La trova forse insieme a Luigi, ha una rivoltella in tasca, verde il lume degli occhi. Ragazzo, fatti in là, lasciami lavorare e sbagli. Scende il sole, cala, cala, col capino sotto l'ala. Ogni uccello che volò fa la ninna na na. Ma scalzoni. Fa piano, Giacomino, se no, la mamma si sveglia. Cipria, Cipria, amore, amore. Sensualità, sensualità. Io a casa ho il numero del telefono di tutte le donne di Parigi. Oh, tutte le vostre amanti. No, no, ho l'elenco telefonico. Ecco qua l'assassinio. Che ve ne pare? Beh, non c'è male, credevo peggio. Tipo di regressivo inferiore, cranio abenorme, labbra pendenti e l'esemplare tipico del degenerato delinguente cretino nato. Sei bello tu, sei bello. Vuoi lavorare nella mia rivista? Magari. Cosa sai fare? Niente. Niente? No. Proprio niente? No, no, nel quarto c'è il regista. Una cadavera. Aiuto, soccorso. Nella triste casetta, strazio dell'anima, c'è la mamma mamma che aspetta. C'è mamma che aspetta che vince così. Cicoli, cicoli. Me li hanno dati perché ho fatto così. Sì, il nuovo siero dei dragoni a cavallo. Mio fratello di latte mi ha detto, ti licenzio, però se ti fai fare due iniezione, mille franchi, io dico sì, sì, e lui fa, piglia e poi... Ah! No, 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 no. No, 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 no.